Dove sono finiti tutti? Tamara che solo il marito chiamava Mara, l'avvocato con le sue sostenitrici Rosa e Cicia, Maria la Pioggia, chissà perché, e Maria del Nilo, chissà perché. Dove sono finiti il vecchio notaio con i suoi figli accidentali e il vecchio farmacista che teneva un violino nascosto nell'armadio? E le loro mogli, tanto diverse, una timida e ombrosa, l'altra ruvida e decisa, eppure piccole entrambe, come bambine, dove sono finite? E Peppo della posta? E Nina che amava i fantasmi? Emilio che cominciò a parlare a vent'anni? Ciccio Bombarda, l'autista senza patente? E Luigi detto Schammerga, con la moglie Gemma, l'amante Virginia, e le altre senza nome? Dove sono finiti quelli che appartenevano al passato remoto? Su, in collina, estati fresche e ventose, sentieri dove cresceva il biancospino come in una pagina di Proust, ma senza nobiltà, solo contadini, poveracci e un po' di borghesia, e quelli che abitavano un tempo verbale meno distante, sulla costa, al mare, umidità e puzzo di pesce ovunque, una miseria più chiassosa che sarebbe diventata andrangheta nel giro di pochi anni? Dove sono finiti tutti. Una volta popolavano il fondo dei suoi sogni, li vedeva sfilare di notte simili a figurine di carta, li vedeva trasformarsi da ombre in corpi e da corpi in statue, e ogni statua era una storia. Di giorno, invece, si perdevano in quella nebbia sfilacciata e inconcludente che sono i ricordi. Franavano i volti, le parole dileguavano, e non gli importava trattenerli, fissarli. Valentino se ne andò alla fine degli anni settanta del secolo scorso. Era un ragazzo e, come tutti i ragazzi, si guardò bene dal voltarsi indietro. Il mondo era un luogo così promettente in cui tuffarsi. E poi Tamara, cioè Mara, cioè sua madre, gli aveva detto e ripetuto fino alla nausea che non doveva restare lì con loro al sud, perché quella era una terra di barbari e lui avrebbe fatto bene a mettersi in salvo fuggendo lontano, il più lontano possibile. Così, tranne che nel fondo dei sogni, a poco a poco lui dimenticò tutti, scoprendo che, al contrario di ciò che si dice, è bello dimenticare. E per almeno quarant'anni visse la gioia di non essere quasi mai se stesso.